Tangenti ma anche infiltrazioni nel tessuto imprenditoriale, così da controllare direttamente gli appalti. L'inchiesta di polizia, coordinata dalla DDA, mette nel mirino anche appartenenti dell'alleanza di Secondigliano, pubblici ufficiali e imprenditori. Le indagini hanno preso in esame le forniture in tre ospedali di Napoli, Cotugno, Cardarelli e CTO. Torna in carcere il boss Luigi Cimmino, ritenuto capo clan del quartiere Vomero e nella zona collinare di Napoli. In cella anche il figlio Franco Diego e il suo presunto braccio destro Andrea Basile. Fra i destinatari dell'ordinanza anche l'imprenditore Giovanni Caruzon, con l'accusa di concorso esterno in associazione camurristica. Sono stati arrestati inoltre gli imprenditori Alessandro Esposito, responsabile commerciale della società BAMAR Italia, Lello e Raffaele Sacco, soci della GEMEAR. Misure cautelari anche nei confronti di sindacalisti e imprenditori, come Marco Salvati, titolare di un'associazione che si occupa di trasporti di infermi. Secondo l'accusa, alla camurra sarebbe andata una percentuale fissa all'atto dell'aggiudicazione di ogni appalto per l'installazione di macchinette, erogatrici di cibo e bevande. Al centro delle indagini anche alcune ipotesi di estorsione, come nel caso di una tangente da 30.000 euro chiesta sui lavori per la creazione del parco urbano dell'ospedale Gardarelli. Alcuni dipendenti facevano da spia per la criminalità organizzata. In sostanza, quando c'erano nuovi lavori in vista, segnalavano la notizia al clan. Complessivamente sono 48 le misure cautelari, carcere per 36 persone, domiciliari per altre 10 e divieto di dimora in Campania per altre 2 persone.